Salve raga, allora qualche giorno fa si è fatto un nuovo congresso sugli UFO, WAP, ora si chiamano WAP, e siccome c'era stato un anno fa o poco più questo congresso che riguardava gli UFO, e alla fine del congresso dell'anno scorso hanno tirato fuori qualcosa che dicevano che alla fine, dopo aver ascoltato queste testimonianze, dicevano che non era vero nulla, nel senso che era tutto falso. Allora, c'è un problema qua, siccome il governo, l'ente, quest'ente qui che fa la salvaguardia spaziale, che controlla lo spazio, il pericolo, se ci fossero questi UFO, qualcosa che potrebbe dare pericolo, portare pericolo alla nazione, è normale che loro prendano i fondi, perché dicevano controlliamo lo spazio, lo spazio da eventuali UFO, eventuali extraterrestri, ma se loro dicono che non esistono, hanno ammesso che non esistono, ieri, l'altro giorno che c'è stato un nuovo congresso, la Presidente, quella lì che poi interrogava i testimoni, diceva scusate, ma allora se i soldi no che ve li diamo a fare, se non esiste nulla? E stavano regolando i soldi dei contribuenti, e i contribuenti vogliono sapere se c'è veramente qualcosa di vero, a questo punto noi non vediamo più un soldo, manco un dollaro che diamo più, cioè chiudiamo sta baracca perché tanto è inutile che tu dici che non esistono e poi però poi i soldi ugualmente, in base a cosa? Se non esistono, scusa, che sono stato, fatemi capire. Allora intervistando questi tre, ci sono tre, quattro, erano quattro, di questi qua che fanno parte, hanno fatto parte e fanno parte dell'intelligence, di tutta sta roba qua, che controllano, vigilano, hanno affermato che ci stanno delle cose che insomma vere, insomma diciamo che è vero, tutto vero, insomma gli UFO esistono, gli extraterrestri esistono, soprattutto l'ha detto quello un po' cicciottello, l'ha detto la Barbetta, l'ha detto lui, l'ha detto, e ha comunicato che dice noi, soprattutto noi americani, cittadini, coloro che pagano, coloro che hanno il diritto di sapere tutte queste cose, è inutile tenere ancora nascosto un qualcosa che non può stare più nascosto, cioè gli americani hanno sempre nascosto sta roba qua, ci hanno fatto sempre credere, ci hanno tenuto sempre nel dubbio, perché come ho sempre detto stare nel dubbio è la cosa che più, sì forse sì, ma sì forse no, ma sto forse sì forse no, alla fine poi rompe le scatole, cioè o è sì o è no, non può essere nè, nè non può essere, deve essere o sì o no, e lui ha constatato che esistono, abbiamo tecnologia aliena, noi abbiamo della tecnologia aliena e se adesso, se oggi ci troviamo con la tecnologia nostra che è avanzata spotenzialmente, molto veloce, è avanzata in questi ultimi anni, è grazie alla tecnologia aliena, perché se non fosse stato così ancora stavamo, che non so, alle macchine degli anni 70-80, degli anni 80 o magari computer degli anni 80, capito? visto che abbiamo avuto in mano, hanno in mano questa tecnologia, diciamo che loro hanno sfruttato delle cose che magari hanno questa cosa che magari tu l'hai appreso e magari poi hai messo in moto per fornire tutto quello che oggi guardiamo di tecnologico, ok? perché altrimenti saremmo rimasti ancora un po' indietro, abbastanza indietro, poche parole, questo ha fatto capire che ci stanno anche delle foto, ci stanno proprio dischi volanti, hanno proprio tutto, loro hanno tutto, i governi, insomma quelli che tengono a scostrutto hanno tutto loro, solamente che è normale, loro non, siccome ancora c'è l'uso dell'omertà, che non puoi parlare perché loro sono stati anche minacciati, addirittura anche le morte, perché non devono parlare di queste cose, è normale che adesso come adesso con l'avvento di Trump, Trump vuole tutto nero su bianco, infatti già questo è stato proprio un primo, come si diceva, una prima escalation per far capire che le cose da oggi in poi cambiano, perciò le persone, insomma i cittadini devono essere al corrente, certo non è che poi tirar fuori tutto quello che è, però almeno far vedere che certe cose esistono, poi magari la tecnologia, certe cose è meglio non divulgarle perché loro pensano sempre che magari la Cina, la Russia fanno entrare in questa roba qua, questo è quello che hanno detto questi signori, anche se ancora non dicono tutto, perché in certi momenti hanno detto che ne dobbiamo parlare in sede privata, certe cose dette ancora pubblicamente non si possono dire, perciò in sede privata possiamo dire cose che magari non possiamo ancora dire ai cittadini, perché magari hanno paura di ritorsioni pubblicamente questi, è quello che dicono, perciò questo è quello che approfondiremo venerdì sera, sarà una puntata speciale proprio dedicata agli extraterrestri, agli UFO, agli WAP come ora li chiamano, per capire bene veramente se esistono queste civiltà o magari come dicono tanti, come si presume, ancora si presume, io dico si presume, io credo, io so che stanno sulla luna, qualcuno presume, hanno basi sulla luna, hanno basi sotto il mare, hanno basi nei punti strategici della terra e siamo supervisionati dagli extraterrestri, siamo visionati, cioè loro, poche parole, non è che gli extraterrestri sono qui, perché molti pensano che gli extraterrestri sono lomini verdi, collocchi così, no, quelli sono delle macchine, quelle che noi guardiamo, quelle che abbiamo visto, quei reperti che abbiamo avuto quando cadde l'astronave di Roosevelt, che ebbe quell'incidente e catturarono e presero quegli extraterrestri, quelli non erano extraterrestri, erano umanoidi, macchine, poche parole, delle macchine mezze umane, insomma mezze naturali e mezze artificiali, capito, però erano diciamo come se fossero stati droni, perché i veri extraterrestri non vengono sulla terra, mandano come noi quando mandiamo le sonde sulla luna, su Marte o in giro per lo spazio o magari mandiamo i satelli artificiali che girano, che controllano il tempo, che controllano le formazioni, tutto quanto qua, non è che fanno loro e si mettono dentro alla capsula e poi fanno sta roba qua, no, quindi sono droni, sono esseri creati dagli extraterrestri che fanno il lavoro che dovrebbe fare un extraterrestre, insomma come noi mandiamo una sonda su Marte, il rover, noi gli diamo i comandi dalla terra e quello magari trivella, tira fuori il sasso, controlla una cosa, l'atmosfera, loro sono più o meno in proporzione è quello, capito, perciò ne approfondiremo venerdì sera su questo fatto e poi magari poi divulgheremo anche sempre su altro come succede spesso, ok, non mancate 21 e 30 venerdì sera su questo canale parleremo degli extraterrestri, come ho detto l'altra volta parleremo soprattutto da quando stanno qui gli extraterrestri, da quanto tempo vivono qui che stanno sulla terra, che vengono e vigilano, fino ai giorni nostri, ok, ci vediamo venerdì sera, 21 e 30, ciao raga